Ciao, grazie di essere qui, 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 con me oggi. Questo è lo speciale di Halloween che tantissimi di voi attendevano da un anno, dallo scorso anno. Prima di iniziare questo video vi dico che questa sarà una storia di true crime riguardante un serial killer. Quindi vi chiedo se siete minori di 16 anni o in generale comunque siete sensibili a questi argomenti facilmente impressionabili. Non siete abituati un pochino a queste storie? Lasciate stare questo video, non è un problema, non mi offendo. E ci vediamo al prossimo perché sono argomenti delicatissimi e cruenti. Quindi non voglio impressionare nessuno, non voglio far star male davvero a nessuno. So che poi questi video da alcuni invece di voi sono particolarmente apprezzati e mi chiedete di farli più spesso. Ora, essendo il mio canale rilassante, non ne sono sicura che questa sia una buona idea. Ma in ogni caso vi do come al solito il potere anche di decisione o comunque di influenzarmi. Quindi se vi piace questo video, se vi piace questa tipologia e volete che ne faccio altre, scrivetemelo nei commenti. Quindi lasciatemi un commento, lasciatemi un mi piace, interagite con questo video e fatemi capire che vi piaccio in modo particolare. E poi io ci penserò, ok? Però sì, se apprezzate questa tipologia di video dovete convincermi che ne vorrete altre. E vedremo se questo video andrà bene, vedremo se farne altri. A me piace molto questa tipologia di video. In generale io ascolto in ASMR qualunque cosa. E sono appassionatissima di tour crime da anni e anni e anni, prima che un pochino andasse di moda. O che comunque crescessero di canali molto famosi. Io li cercavo in inglese e li seguivo tantissimo. Quindi veramente mi si è piaciuto questo argomento e mi piace anche informarmi e parlarne. Però appunto sta a voi. Fatta questa premessa che andava assolutamente fatta. Cominciamo con il video. Oggi parliamo di John Wayne Gacy. Detto anche il killer clown. John Wayne Gacy è un serial killer che ha violentato e anche ucciso. E si pensa che le sue vittime siano in tutto 33. È una storia di sofferenza fin da quando proprio il protagonista anche è bambino. Ed è la prova che con la violenza non si ottiene assolutamente niente e si fanno solo dei danni. E io vi porto queste storie soprattutto di serial killer perché sono quelle che in un qualche modo mi affascinano di più. Nel senso che a volte mi chiedo, cioè mi viene da chiedere, è stato questo che l'ha portato a diventare quello che è diventato? È stato questo episodio? È stata una serie di episodi? Cosa gli è accaduto? Se avesse avuto un'infanzia classica, se non gli fosse accaduto questa cosa in particolare, sarebbe comunque diventato ciò che è ora? Cioè era comunque il suo destino? Mi chiedo spesso queste cose, quindi ditemi anche voi alla fine se secondo voi la sua storia ha in qualche modo risvegliato il mostro che era dentro di lui. John Wayne Gacy nasce il 17 marzo 1942 a Chicago in Illinois. È il secondo di tre figli ed è l'unico maschio. La madre fa la casalinga e il padre, che si chiama John come lui, è un veterano della Prima Guerra Mondiale. Il padre è una persona che secondo me è fra l'altro cruciale in questa storia ed è una persona che di certo non l'ha aiutato. Era una persona molto dura e era anche un alcolizzato, è un alcolizzato rabbioso, quindi ogni volta che alzava il comito gli saliva una rabbia ed era violento sia con John sia con tutti gli altri componenti della sua amiglia, quindi sua moglie e le sue due figlie. John cresce in un ambiente in cui ha paura e ha paura letteralmente a essere se stesso, a esprimersi, a esprimere qualunque sentimento lui abbia e qualunque natura abbia. Ovviamente come tutti i bambini John cercava disperatamente l'approvazione del padre, l'approvazione dei genitori, in questo caso del padre. E il padre però lo considerava esattamente l'opposto di chi avrebbe voluto come figlio. Infatti John Wayne Gacy prende il nome, il suo padre aveva deciso il suo nome da John Wayne. John Wayne è un attore che è stato famoso negli anni 40 e particolarmente diventato popolare, perché faceva il ruolo del macio, eroe, un po' senza paura nei film western, quindi proprio l'uomo vero, no? E quindi anche solo dal nome immaginatevi come il padre si aspettava e voleva che diventasse il figlio. John invece era un ragazzo, veniva descritto dal suo padre, effemminato, grasso e debole. John racconta che uno dei suoi primi ricordi era di quando aveva 4 anni e suo padre stava montando, assemblando un atteggio meccanico, insomma, su un tavolo e John un po' per sbagli, un po' per giocarci, li aveva messo in disordine dei pezzi e suo padre per questo l'ha picchiato a lungo, ripetutamente, con una cintura di cuoio. 4 anni, eh? 4 anni. Un'altra volta racconta che l'ha picchiato con un oggetto talmente forte da farlo svenire e si pensa anche che possa aver subito un trauma cranico. E questa cosa è interessante. E dopo succederà un'altra cosa, perché in realtà tantissimi killer hanno in realtà avuto dei trauma cranici e non si sa quale sia la correlazione. Ovviamente se avete avuto un trauma cranico non vi spaventate, adesso che non c'è una colorazione diretta, però si vede che molti di loro hanno anche... c'è un ragno sul mio computer a proposito di Halloween, quindi non mi è mai capitato una cosa. Si vede che appunto comunque è una cosa che capita spesso, quindi magari può essere un oggetto in più da approfondire. Ecco, secondo me è interessante perché capita spesso, però non è certo l'unico fattore che porta una persona a fare queste cose, questo no, minimamente non vi preoccupate. Sua madre, data la volenza del padre, diventa ancora più protettiva verso di lui e questo non fa altro che peggiorare la situazione nel senso che suo padre gli dava della femminuccia, gli dava del mammone e, poverino giustamente, un bimbo vuole l'affetto della madre, vuole la protezione della madre, ma per suo padre questo era semplicemente da prendere in giro, era proprio il suo primo forte bullo che aveva sempre e che secondo me si porterà dietro sempre questo bullo interiore, questa voce del padre che dice sei una femminuccia, sei un debole, eccetera, eccetera, eccetera. E questa cosa proprio è sicura al 100% che si porterà questo tratto del padre per tutta la vita nella sua testa. Gianni era anche stato beccato a provarsi dei vestiti della madre, poi aveva tipo, collezionava delle mutande della madre sotto le scale e in generale ha cominciato a interessarsi e incuriosissi nella propria sfera assuale a un'età molto, molto giovane. Infatti nel 1949, all'età di solo 7 anni, è stato beccato a fare fusioni con una prostituta e un altro ragazzo a 7 anni, quindi la sua curiosità riguardo e la sua morbosità che cominciano veramente, veramente presto. E anche qui mi chiedo quanto era lui di natura così, quanto ha aumentato il padre questa sua natura, quanto l'ha esagerbato. Gianni non ammette mai di essere omosessuale, lui dice al massimo di essere bisessuale, ma diciamo che il suo modo superante è il fatto che tutte le sue vittime siano ragazzini e maschi, ci fa avere delle domande, però insomma in ogni caso aveva degli interessi forti verso gli uomini, ma questa cosa penso non l'abbiamo mai accettata fondamentalmente e si capisce anche perché tra l'altro erano anche degli anni, già stiamo parlando degli anni, in questo caso 50, 60, 70, c'è anni in cui in ogni caso anche avesse avuto una famiglia che lo supportava, era veramente difficile essere omosessuale, quindi sicuramente anche il contesto non aiuta ed è una cosa già poco accettata nella società, però insomma una red flag invece che non ha John, che invece non vuol dire il killer, ma che John non ha è il fatto che non odiava gli animali, non era violento con gli animali, anzi li amava molto, a volte proprio li salvava e li portava a casa, e quindi niente, almeno questa red flag non ce l'aveva tutte le altre, praticamente ce li ha, e John negli anni ha imparato a non esprimere le proprie emozioni, non piangeva, non esprimeva tristezza, non esprimeva rabbia, anni in tutta la sua infanzia, questi sentimenti, questo rancore, questa rabbia, questa tristezza infinita, sono rimasti chiusi lì dentro, e questo di certo non può portare a nulla di positivo, anzi, probabilmente a un certo punto sono scoppiati tutti insieme, all'età di nove anni, come se non bastasse, è stato molestato da un amico di suo padre, un amico nel settore etile, mi sembra l'ha fatto entrare nel suo, tipo camion, nella sua macchina per trasportare, e l'ha violentato, e non ne è successo solo una volta, ma più volte, e John non ha mai detto una parola a riguardo ai suoi genitori, per paura di incappare nell'ira del padre, quindi immaginatevi voi siete vittime di una cosa, ma avete paura che vostro padre se la prenda con voi, probabilmente non gli avrebbero anche creduto, in ogni caso, comunque già questo, e già quest'altro episodio di suo, provano una persona, ma non solo, c'è anche un'altra cosa, a 11 anni, John cade, cadendo da lantalena, e anni dopo capiranno che questo gli ha provocato un ematoma al cervello, e quindi da questo episodio lui comincia a svenire, comincia a avere piccole perte di memoria, e gli viene anche diagnosticata, sempre verso l'adolescenza, un'insufficienza cardiaca, che lo porta dall'età dei 14 all'età dei 18 anni, a passare tantissimo tempo in ospedale, lui dice che, secondo lui in questi anni, avrà passato il totale di tempo, fra tutti i ricoveri, di un anno in ospedale, quindi non frequentava neanche tanto la scuola, e suo padre era convinto che stesse fingendo questa malattia, sua madre e le sue sorelle invece, dichiarano che effettivamente era malato, ma non ci sono prove, ma comunque non lo saprevo mai, io dubito sia falsa questa cosa, in ogni caso, questa sua insufficienza cardiaca lo porta anche, anche volendo, a non poter fare sport, e quindi siamo sempre lì, femminuzzo, insomma proprio, non poteva essere peggio per suo padre come figlio, però cionava sempre questo bisogno di, invece essere accettato, essere amato, essere apprezzato da suo padre, a scuola non andava meglio, immaginate un po', era pullizzato, quindi anche lì abbiamo casa, abbiamo salute, abbiamo scuola, tutto, tutto, non è positivo, non c'è nessun ambiente positivo fondamentalmente nella sua infanzia, a 18 anni John comincia a interessarsi alla politica, ed entra a far parte del partito democratico della sua città, questa cosa, indovinate, e suo padre la prende malissimo perché suo padre è un repubblicano, quindi la prende quasi proprio come un tradimento, a 18 anni poi comincia appunto con questo lavoretto nel partito a risparmiare per comprarsi un'auto usata, ma suo padre si offre di fargli un prestito per aiutarli invece a prendere una macchina più bella, un'auto nuova, e sembrerebbe un gesto carino, in realtà semplicemente cercava, visto che John aveva già 18 anni, di tenerlo comunque sotto controllo, perché ogni volta che faceva qualcosa che non gli andava, gli ritirava le cavite della macchina, gli rinfacciava il fatto che gli aveva pagato la macchina, e quindi continuava a esercitare questo potere su suo figlio, a un certo punto John non ce la fa più, e dice, racconta che scappa di casa, in realtà di 18 anni tu potresti andartene di casa tranquillamente, ma lui la vive tantissimo come uno scappare di casa, a fuggire perché non ce la faceva più, e scappa nella città dei sogni americani probabilmente, cioè a Las Vegas in Nevada, arrivato a Las Vegas trova subito un lavoretto in un'ambulanza, e poi trova un lavoro come assistente in una camera mortuaria, ok, vabbè, comunque, e lui essendo fondamentalmente senza soldi, senza che nessuno lo sappia, lui dorme di fianco a questa camera, quindi in questo luogo, cosa abbastanza inquietante, e lui ovviamente, vabbè, ma ci può stare prova anche curiosità per questi corpi, comunque gli piace questo lavoro, e dopo tre mesi, che era lì una sera preso dalla curiosità, preso dall'istinto, apre una barra con dentro un ragazzo adolescente, e si mette dentro accocolato, sta libero un po', poi si rende conto di quello che sta facendo, va completamente nel panico, chiama la madre, e gli chiede di tornare a casa, anche il padre d'accordo, e quindi il giorno dopo, lui torna a casa, sconvolto da questa cosa che ha fatto, tornato a Chicago, decide di iscriversi, e poi si laureerà, laureerà all'università di economia e commercio, e questa è effettivamente proprio la sua strada, no? e comincia a lavorare in un negozio di scarpe, sempre a Chicago, e si accorgono subito, che è veramente, veramente bravo nel suo lavoro, è un bravissimo venditore, è bravo a convincere le persone, è bravo a vendere, e probabilmente anche a vendersi, vedendo dopo cosa succede, e fa carina molto velocemente in questo posto, e viene trasferito in degli uffici a Springfield, e diventa dopo un po' direttore marketing degli uffici, qui sul luogo di lavoro, incontra la donna che sarà la sua prima moglie, Marilyn Myers, e solo dopo nove mesi, loro si sposano, loro due si sposano nel 1964, e voi direte, ero omosessuale, sì, probabilmente si sforzava di avere questa, questo rapporto con le donne, proprio di facciata, anche per fare contento il padre, e comunque per, che non aveva accettato la sua natura in realtà, per in quell'anno dichiara di aver avuto il suo primo vero rapporto omosessuale, con un suo collega di lavoro, con senza interesse, che erano andati a fare due chiacchiere in casa, avevano un po' un bevuto, e poi avevano avuto un rapporto. Il suocero di John, il papà di Marilyn, era un imprenditore, ed era proprietario di tre negozi di Kentucky Fried Chicken, che è il KFC, e ce li aveva a Waterloo in Iowa, quindi due anni dopo, nel 1966, il suo suocero gli offre questo lavoro, essendo che lui comunque era molto bravo, aveva già fatto carriera, e quindi dopo un breve corso formativo, si trasferiscono in Iowa, lui, con sua moglie, e nel frattempo, nel 67 e nel 68, avevano avuto due figli, un maschio e una femmina. Nel 67 era nato Michael, nel 68 era nata, è nata Christine. John, qui e anche, rimane molto attivo, nel partito democratico, in generale, è molto molto attivo, nella società, cerca di farsi apprezzare, va di tutto per inserirsi, e costruirsi insomma, un nome. John ovviamente, se non direttore di questi negozi, ha anche potere appunto, di assumere le persone, e guarda caso, assume sempre ragazzi, molto molto giovani, si parla anche di 15-16 anni, inesperti, che facevano ancora la scuola, e non solo, aveva anche dei rapporti, cercava di creare un rapporto stretto, con questi ragazzi, li invitava, nel suo garage, nel suo basement, e li faceva giocare, li faceva ubriacare, scherzava molto con loro, e si spingeva anche, oltre no, ci provava, però ogni volta che veniva rifiutato, la buttava sullo scherzo, e diceva, no ma dai, ma si scherza, o sto provando a testare, le tue doti morali, insomma, alla fine, la faceva sempre franca, e per chi cedeva, magari aveva bisogno di soldi, gli dava dei soldi, in cambio di prestazioni, quindi, di facciata, e questo uomo, sposato, con due figli, un imprenditore, attivo nella società, attivo nella politica, dietro, sta facendo tutto questo, nel 1967, che noi sappiamo, fa il suo primo crimine, suale, ai danni di, Donald Forrest, un ragazzino, che viene attratto a casa sua, perché, non gli promette, di fargli visionare, contenuti per adulti, Donald subisce violenza, ma dopo lo racconta al padre, e insieme, vanno alla polizia, la polizia, subito, comincia, a indagare, e, mette in arresto, John, ma la sua famiglia, come lo, lo stevia a questo caso, dice che, essendo lui parte del partito democratico, sicuramente, era qualche repubblicano, che stava provando a incastrarlo, no? Perché, in un qualche modo, devi dare una scusa, non l'ammetteresti mai, lui, non l'ha mai ammesso, e nel 1968, viene arrestato, con la condanna a dieci anni, per le malese sessuali, estomia, in relazione a Vores, e tentato spro di un altro ragazzo, di nome Edward Lynch, tra l'altro, correlato a questa storia, c'è anche il fatto che, John, ha provato, in tutti i modi, a far cedere Donald, e a non farlo testimoniare, perché, viene raccontato, ha assunto un ragazzino, non mi ricordo se era impiegato, nel case o no, ha assunto un ragazzino, che il giorno prima, del testimoniare, ha picchiato, Donald l'ha minacciato, gli ha sparato, dello sparo peperoncino, l'ha preso a pugni, e, nonostante questo, per fortuna, Donald ha denunciato, anche l'accaduto, anche questo ragazzino, è stato fermato dalla polizia, e ha raccontato, che era stato mandato da John, John nega, ma nessuno gli chiede, quindi, nel santo, viene condannato, a dieci anni, di carcere, nell'Iowa, quindi, stiamo parlando, di un altro stato, rispetto al suo stato, di nascita, dove è cresciuto, il giorno, in cui è stato condannato, a dieci anni, di carcere, sua moglie, ha chiesto il divorzio, e, in seguito, otterrà anche, la completa accusa, dei figli, tutti i beni, e, John non vedrà, mai più, né la sua prima voglia, né i suoi figli, tra l'altro, nel periodo, in cui, veniva accusato, e stava assopendo il processo, e sono anche studiato, diciamo, in suo caso, da due medici psichiatri, che dopo un'osservazione di 17 giorni, gli hanno diagnosticato, un disturbo, di personalità, a sociale, ma, questo, non gli dava, infermita mentale, quindi ha comunque, subito il processo, però, comunque, c'è una diagnosi, di personalità, sociale, in carcere, si, rifà una vita, diventa presto, aiuto cuoco, e poi, cuoco, della mensa, è molto attivo, socialmente, anche lì, cerca di aiutare, altri carcerati, convince il carcere, ad aprire un mini golf, nella, nella prigione, insomma, comunque, fa il detenuto, un modello, come il cittadino modello, ma, appunto, in carcere, e, già un anno dopo, comincia a chiedere, di essere rilasciato, ma, per fortuna, viene rifiutata, la sua richiesta, sempre nel 69, a Natale, muore il padre, per una malattia al fegato, già non lo viene a sapere subito, lo viene a sapere due giorni dopo, ed è arrabbiatissimo, e, devastato, è distrutto, e vuoi dire, te, è morto il tuo carnefice, cioè, com'è, com'è possibile che tu sia distrutto, il padre è morto, e John sapeva di non avere la sua approvazione, ma, ancora peggio, in realtà, nel breve periodo, in cui è stato sposato, con due figli, imprenditori di successo, suo padre aveva cominciato a ravvicinarsi a lui, era fiero di lui, gli aveva anche chiesto scusa, perché pensava che diventasse gay, invece la fine non lo era, insomma, aveva finalmente avuto, in parte, quell'accettazione, quella stima, da parte del padre, e sapere che era morto, e lui era in carcere con queste accuse, insomma, non lo accetta, e questa cosa lo distrugge tantissimo, quanto è malata questa cosa, cioè, è disturbante questo rapporto, è disfunzionalissimo fra padre e figlio, nel 1970, dopo solo 18 mesi di carcere, John richiede di nuovo la libertà vigilata, e gli è danno, perché è un carcerato modello, ha 10 anni di carcere, una cosa da 10 anni, ma dopo 18 mesi, lo rilasciano, con la libertà vigilata, a patto che faccia certe cose, cioè che torni a casa, in un altro stato, in Illinois, a Chicago, vada a vivere con sua madre, debba tornare sempre alle 10 di sera, e Ricky, drittissimo, tornato a Chicago, trova lavoro come aiuto cuoco, e approfittando il fatto appunto, che appunto aveva fatto esperienza come cuoco, in carcere, e all'inizio, inizio, tutto sembra andare bene, però dopo solo 8 mesi, viene accusato, di aver tentato, di moltare, un ragazzo, alla fermata dell'autobus, tra l'altro, John frequentava spesso, questa fermata dell'autobus, e diventerà, un suo luogo, di attescamento, molto frequentato, perché, lì, comunque, c'erano ragazzi, che magari aspettavano, tutta la notte, di prendere un autobus, quindi lui, si offriva di, dargli un tetto, su cui, dormire, quella notte, oppure, c'erano ragazzi, che scappavano di casa, insomma, erano tutti ragazzi, vulnerabili, lui ovviamente, qui proprio, era il suo posto, purtroppo, il ragazzo, purtroppo, non si presenta all'udienza, quindi, le accuse cadono, non si sa perché, non si presenta, ma, in realtà, vedendo la storia di John, si sospetta, che anche questa volta, abbia pagato qualcuno, per minacciare il ragazzo, per fargli paura, per non farlo testimoniare, e che questa volta, abbia funzionato, la cosa triste, la cosa assurda, è che, fra stati, non hanno comunicato, quindi, lo stato dell'Iowa, dove era stato arrestato, dove era ancora, in libertà vigilata, non viene a sapere, di questo avvenimento, quindi, trascorsi i 12 mesi, in libertà vigilata, John, ritorna, un uomo, a tutti gli affetti, libero, con l'aiuto economico, della madre, compra, una casa, e ci vanno a vivere, tutte e due, insieme, in questo periodo, conosce anche, quella che diventerà, la sua seconda moglie, Carol, che è una donna divorziata, che ha già due figli, loro, rimarranno sposati, per tre anni, quindi, molto poco, una volta che si è sposata, ovviamente, la madre, va via di casa, e arriva la moglie, sempre, in questo periodo, John decide, di lasciare, il lavoro, come aiuto cuoco, e, apre una sua attività, edile, che si chiama, BDM, construction, quindi, painting, decoration, and maintenance, quindi, facevano appunto, più duravano, decoravano, facevano un piccolo, manutenzione alla casa, ma questa attività, comincia ad andare, molto bene, quindi, alla fine, non fa solo, questi lavoretti, ma prende in mano, proprio interi progetti, e opere di costruzione, John appunto, è anche molto attivo, nella sua società, comunque, continua a partecipare, in, e a essere coinvolto, nel partito democratico, fa feste, metto anche persone importanti, come politici, addirittura, c'è una foto di lui, che, tiene la mano, a una first lady, si offre, di far pulire, dalla sua azienda, agli uffici comunali, gratis, e, fa anche, un'altra attività, sempre sul sociale, ed è ora, di presentarvi, l'alter ego, che ha reso anche, fosse inquietante, famoso, questo caso, di John, che è, Pogo, il clown, siamo circa, nel 72, 73, e appunto, John, faceva anche, attraverso, il suo personaggio, di Pogo, il clown, intratteneva, i bambini, alle feste, ai compleanni, e dice, che gli piaceva, particolarmente, questo personaggio, perché, a Pogo, il clown, era permesso, di essere, un pochino, di più, gli si perdonavano, un pochino, più cose, poteva, stersi in braccio, alle persone, poteva, magari, toccare, fare scherzi, un po' più spinti, che tanto, sta scherzando, è un clown, è super inquietante, questo clown, c'è le sue foto, come clown, sono super, super inquietanti, si dice, alcuni pensano, che il libro, It, scritto da Stephen King, abbia anche preso ispirazione, da questo caso, non si sa, non ci sono mai state, dichiarazioni, ufficiali, a riguardo, certo, è che forse, anche il personaggio, del clown, probabilmente, anche da questo libro, viene un attimo, rende, viene reso, ancora, più inquietante, in uno nulla, contro il clown, onestamente, però, diciamo, che è associato, a questo personaggio, sì, è un po' borderline, e sicuramente, lo rende un caso, particolare, e appunto, l'ha reso, anche molto famoso, infatti, è anche chiamato, il killer clown, ricapitoliamo, è un uomo, di potere, un uomo, che ha una buona reputazione, un uomo, un uomo attivo, che fa feste, apprezzato, un imprenditore di successo, e quindi, insospettabile, no? Ovviamente, avendo un'azienda, tra l'altro, che si sta anche, idile, che si sta anche, appunto, allargando, lui deve assumere, delle persone, e guarda caso, assume sempre, ragazzini, giovani, che facevano ancora la scuola, quindi, che avevano bisogno, di un lavoro part time, perché non avevano tanti soldi, in famiglia, tutti inesperti, e quando le persone, gli chiedevano, scusa, ma non sarebbe meglio, assumere qualcuno, di un po' più grande, un po' più maturo, ma anche, un po' più esperto, lui dice che, preferisce, formare, le persone, formare, i lavoratori, come li avrebbe voluti lui, quindi, preferisce, formare questi ragazzi, e insegnargli, come si fanno le cose, che da una parte, può avere senso, dall'altra, tutti ragazzini, vabbè, in un viaggio di lavoro, in Florida, si porta dietro, appunto, un suo dipendente, e, dormono, nella stessa stanza, albergo, e lui, prova a starlo, ma questo ragazzo, lo picchia, lo prende a pugni, si ribella, e scappa, e, ovviamente, non volendo dormire, nella stessa camera con lui, dormirà in spiaggia, non ho ben capito, perché questa cosa, non è saltata fuori, cioè, non è stata denunciata, alle autorità, comunque, tutti questi casi, a parte, alcuni, verso la fine, non verranno denunciate, alla fine, li prendono tutti, un pochino, come scherzi, un pochino, cerca di corrompere, questi ragazzi, quindi, la fa sempre franca, nel 1975, John fa coming out, con sua moglie, le confessa, sia essere, bisessuale, e, nel, tra l'altro, la festa della madre, sempre nel 75, le comunica, che, non avrebbe più, avuto rapporti, intimi con lei, così, ti informo, che, da lì, raccontano, che ha cominciato, proprio, a non esserci più, nella famiglia, che passava, notte intere fuori, tornava all'alba, e diceva, che semplicemente, aveva lavorato, tutta la notte, in questi anni, è successo, anche un episodio, in cui, era venuta, a trovargli, la cognata, di John, quindi, la sorella, di Carol, ma lui, non era a conoscenza, che, se il cognato fosse lì, quindi, lui stava, era in macchina, stava tornando a casa, con un ragazzo, lo voleva portare, nel suo garage, la cognata, li vede, John, ovviamente, tipo, fa finta di salutarla, ridere così, e se ne va, la cognata, un po', per curiosità, va a vedere, cosa ci fosse, nel garage, e trova, un materasso grande, uno specchio, delle manette, altri oggetti, di dubbia, di dubbio utilizzo, e lì, per lì, pensa semplicemente, che lui stia, tradendo la moglie, fondamentalmente, non pensa, non pensa, non pensa nulla di più, non, non sospetta, gli orrori, che accadono, veramente, lo schifo che accade, e, nel 76, dico un accordo, John e Carol, divorziano, e, da qui, avendo la casa, tutta per sé, lui si, scatenerà, darà proprio il peggio di sé, non ci sarà nulla, bloccarlo, ma facciamo un passo indietro, perché, da adesso, comincerò a raccontarvi, la parte, più, macabra, della storia, per cui, poi è diventato, anche, un serial killer, in totale, le sue vittime, sono state 33, e la maggior parte, delle vittime, sono state, uccise, dal 76, al 78, quindi, in soli due anni, più di, 16 vittime, in soli, due anni, alcune, anche nello stesso giorno, a pochi giorni, di distanza, però, tutto, comincia, nel 72, nel 1972, il 72, è l'anno, in cui, John, apre, la sua impresa, e incontra, indovinate un po', alla fermata, degli autobus, Timothy, Jack, McCoy, questo, Timothy, era, in stazione, e sarebbe stato, tutta la notte, perché doveva prendere, poi un autobus, che da Chicago, andava da un'altra parte, e John, si ferma, e si offre, di fargli fare, un giro turistico, per Chicago, e di, invitarlo a dormire, a casa sua, per la notte, perché non passasse la notte, da solo, Timothy, accetta, e, non ho capito bene, cosa successe questa notte, magari, semplicemente, John l'ha pagato, comunque, sicuramente qualcosa, è successo, il giorno dopo, John si sveglia, e trova, Timothy, affacciato, alla sua camera da letto, la camera da letto di John, con un coltello in mano, John, è preso, alla sprovvista, va nel panico, e quindi, cominciano, una lotta, proprio lo attacca, cominciano a lottare, una lotta molto violenta, e alla fine, riesce a uccidere, Timothy, altellate, le cose disturbanti, in questa vicenda, sono, tre, uno, l'omicidio, due, che John, ha avuto, un, orasmo, completo, durante l'uccisione, quindi, si rende conto, che, questa cosa, lo stimola, a livelli estremi, il terzo, è che, si accorge, che, quando, arriva, in cucina, ci sono, le uova aperte, c'è il peccone in padella, Timothy, semplicemente, stava cucinando, la colazione, ed è venuto a chiamarlo, a fare colazione, semplicemente, gli era rimasto, il coltello in mano, è, 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 pensare che, attraverso questo incidente, questa, anche, svista di Timothy, questa azione di Timothy, involontaria, ha scatenato, e praticamente, per sbaglio, ha sbloccato, questa, questo nuovo livello, di, cattiveria, e di, disturbo, di John, John dirà, che, ucciderà, scoperto che, in quel momento, che ucciderà, è, l'emozione, più grande, di tutte, quindi, da qui, non si fermerà, ovviamente, si deve liberare, di questo corpo, però, e cosa fa? Lo seppellisce, sotto la sua casa, e poi, lo copre in cemento, con tutto il cemento, avete presente che, anche nell'essere TV, si vede che, nelle case americane, essendo molti, molte case prefabbricate, hanno tipo, il, il terreno, poi, hanno delle specie di palafitte, molto sottili, e poi, hanno, le fondamenta, e la casa, e quindi, c'è questo spazio, fra il terreno, e la casa, e lui, seppellisce, Timothy, qui, in questo spazio, il suo secondo, amicidio, avviene nel gennaio, del 1974, e il ragazzo, non è mai stato identificato, e, il suo corpo, è stato ritrovato, vicino al barbecue, in ogni caso, a parte le ultime vittime, sono state tutte, seppellite, a casa sua, sotto la casa, o comunque, nel suo giardino, fra cantina, giardino, e, sotto, la casa, come abbiamo detto, John, assumeva tantissimi ragazzini, nella sua azienda, uno di questi, era, Tony Antonucci, Tony Antonucci, il giorno prima, si era fatto male al piede, aveva avuto un infortunio al piede, e quindi, John sapeva, che l'avrebbe trovato a casa, e da solo, e voleva approfittare, del fatto che, appunto, questo ragazzo, aveva un piede infortunato, e quindi, era più debole, va a casa sua, gli offre, un po' da bere, scherza un po', cominciano a fare, un po' la lotta, per gioco, non lo so comunque, cominciano a fare, un po' la lotta, per gioco, e, a un, certo punto, John, gli mette, le manette, dietro la schiena, e, non si accorge, però, che una di queste manette, è leggermente, aperta, cioè, non sono chiuse bene, quando, John esce dalla stanza, Tony, si libera, ma, rimane, con le braccia, dietro la schiena, e, quando John torna, e si avvicina, gli fa una mossa di wrestling, perché, Tony, era un wrestler, nella sua scuola, lo butta, a terra, e, gli mette, le manette, John all'inizio, impanicato, arrabbiatissimo, poi si calma, e, alla fine, dei cittadini, come un accordo, di, non parlarne mai più, far rinta, che questo, non sia, mai accaduto, anche qui, non capisco, perché, forse, John, è stato bravo, con me, se no, non saprei, onestamente, questa cosa, delle manette, era molto, sotto John, sia, metterle, con la forza, sia, metterle, con l'inganno, nel senso, che usava questa scusa, di, insegnare, a fare un gioco, di magia, e quindi, mostrava, si metteva a lui, le manette, per primo, mostrava, come togliersene, e poi diceva, adesso, prova te, e io ti insegno, e con questa scusa, ammanettava, metteva le manette, ai ragazzi, solo una settimana, dopo questo accaduto, scompare, un altro ragazzo, che lavora, nell'azienda, di John, che si chiama, John, Bukovic, questo ragazzo, aveva confrontato, John, perché, gli doveva, due settimane, di paghe, in arretrato, aveva in arretrato, due settimane, di paghe, la scusa, di, appunto, discutere, su questa casa, dei pagamenti arretrati, John, invita il ragazzo, a casa sua, perché, sua moglie, era andata a trovare, sua sorella, in Arkansas, con i figli, quindi, aveva casa libera, John, questo ragazzo, lo inventa, e lo uccide, e lo seppellisce sotto casa, i genitori, di John, hanno, sempre, sospettato di lui, hanno provato più volte, ad andare alla polizia, e dirgli, guardate che noi sospettiamo molto di lui, ma la polizia, più di interrogarlo, e di farsi dire, che, lui aveva risolto questa cosa, la paga, e però non l'aveva più visto, non poteva fare altro, non c'erano prove, e quindi, nonostante la famiglia, fosse convinta, che John gli avesse fatto qualcosa, non è successo nulla, adesso, siamo arrivati di nuovo, al 1976, John, ha divorziato, e ha, casa, tutta per sé, e da qui, gli amicidi, saranno, molto, 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 più frequenti, ovviamente, negli anni, sarà sospetto, che così, tanti ragazzi, della sua azienda, a un certo punto, puff, scompaiono, ma, ci si passa sopra, insomma, John, appunto, si era fatto, aveva un ruolo importante, nella società, era un imprenditore, non ci si facevano, troppe domande, a fine del 1976, scompare, dopo solo tre settimane, di lavoro lì, un altro, suo impiegato, il nome Gregory Kotzig, che aveva 17 anni, sua madre, sua sorella, chiamano anche John, per chiedergli, se sapeva qualcosa, della sua scomparsa, ma John gli dice, che Gregory, gli aveva lasciato, un messaggio, nella, nella segretaria telefonica, confiazzandogli, che voleva scappare di casa, e quando la famiglia, gli ha chiesto, ok fammi ascoltare, questo messaggio, lui ha detto, che semplicemente, l'aveva già cancellato, quindi non era possibile, e anche qui, non si è ne fatto più nulla, adesso, ammetto, leggerò, perché faccio molta fatica, io con le date, con i nomi, però, ovviamente, non è meno importante, quello che vi dirò, a un certo punto, farò anche l'elenco, di tutte le sue vittime, perché ne ha fatte, veramente tante, il 20 gennaio 1977, John, Sik, 19enne, amico di Bukovic, e Kozik, scompare, Sik aveva preso appuntamento, con John, con la scusa, che John voleva appunto, comprare, la sua macchina, a John Sik, servivano appunto, quei soldi, venne sepolto, accanto al corpo di Kozik, John, intanto poi rivendette, l'auto di questo ragazzo, a un altro, suo dipendente, a un altro ragazzino, di nome Michael Rossi, e qui, comincia diciamo, il primo sospetto, il primo episodio, nel senso che, nell'agosto del 77, quindi, otto mesi dopo, è emerso un indizio, rispetto appunto, alla sparizione, di John Sik, l'operaio, Michael Rossi, aveva rubato, della benzina, da una burba, di rifornimento, e appunto, con l'auto, che aveva comprato, che risultava appunto, in proprietà di John Sik, quando gli ha chiesto, da dove aveva preso quest'auto, gli aveva detto, me l'ha venduta, John Wayne Gacy, e quindi, hanno cominciato a sospettare, e hanno anche, appunto, interrogato, John, ma alla fine, non, non è successo, nulla, però questo, diciamo, il primo contatto, sarà il primo contatto, di tre, che la polizia, avrà con lui, in cui magari, non faranno nulla, ma cominciano a avere, delle giri sospetti, tra l'altro, una delle vittime di John, sarà anche, il figlio di un poliziotto, adesso vi racconto, altri due episodi, in cui, ci sono sette sospetti, ma alla fine, non successe nulla, il primo, il 30 dicembre 1977, quando John, adesso, uno studente, di 18enne, di nome Robert, torne lì, che incontra, sempre presso una fermata, dell'autobus a Chicago, ve l'ho detto, frequenta molto, quelle zone per attescare, e porta Tony, a casa con lui, con una scusa, lui violenta, l'autoratura, ripetutamente, imbliggendogli, anche proprio, svariate sevizie, ma alla fine, non si sa perché, lo lascia andare, e ovviamente, Tony, gli racconta, degli abusi subiti, alla polizia, che si viene interrogato, circa l'accaduto, dirà invece, che tutto ciò, che è accaduto, era semplicemente, un gioco molto estremo, ma consensiente, con il ragazzo, e la storia, finirà fondamentalmente qui, un altro episodio, invece, è stato nel marzo, il 1978, nel marzo, 1978, John, di un passaggio in macchina, al 26enne, Jeffrey Rignall, anche lui fu vittima, di tutore, di fiancé, ma alla fine, fu lasciato andare, e di nuovo, non si capisce perché, anche questa volta, la polizia fu informata, dell'accaduto, ma alla fine, non fu sporcare, non c'erano, lo interrogarono, ma, non successe niente, e così, fino, a fine, 1978, ora, vi farò, l'elenco, delle sue vittime, vi dirò l'età, e quando, hanno perso la vita, oltre a quelli, già, nominati, già ricordati, 6 aprile, 1976, Darrell Samson, 18 anni, 14 maggio, 76, Randall Raffet, 15 anni, sempre il 14 maggio, Sam Stampton, 14 anni, e questi furono, anche seppelliti, insieme, ripeto, 14 anni, Michael Bonny, Michael Bonny, 17 anni, 3 giugno, 76, 13 giugno, William Carroll, 16 anni, nell'età del 76, è stato ucciso anche, un ragazzo, che però, è rimasto ignoto, James Hackinson, 16 anni, agosto, 1976, il giorno dopo, Rick Johnston, 17 anni, tra l'estate, l'autunno del 76, sono stati, hanno perso la vita, altri due ragazzi, però ignoti, sempre molto giovani, il 24 ottobre, Kenneth Parker, e Michael Marino, 16 e 14 anni, insieme, William Bundy, 19 anni, il 26 ottobre, due giorni dopo, il primo dicembre, 76, Francis Wayne Alexander, 21 anni, il 12 dicembre, come abbiamo raccontato, Gregory Kozik, 17 anni, poi John Sieg, 19 anni, il primo del 1977, John Prestige, 20 anni, a marzo del 77, un altro ragazzo ignoto, nella primavera estate, del 77, Michael Bowman, 18 anni, 5 luglio, Robert Gilloy, 18 anni, 15 settembre, John Mohery, 19 anni, 25 settembre, Russell Nelson, 21 anni, il 17 ottobre, Robert Winge, 16 anni, il 10 novembre, del 77, Tommy Bowling, 20 anni, il 18 novembre, David Tasma, 19 anni, il 9 dicembre, William Kindred, 19 anni, il 16 febbraio, del 78, Timothy O'Rourke, 20 anni, a giugno del 78, Frank Landigin, 19 anni, fine 1978, James Mazzara, 20 anni, il 24 novembre del 78, e infine, Robert Priest, di 15 anni, l'11 dicembre del 1978, pensate che, le vittime, 4 vittime, addirittura, sono state ritrovate, gettate, nel fiume, perché a casa di Robert, non c'era letteralmente, più spazio, anzi, alcune vittime, vengono ritrovate anche, tagliate a pezzi, perché si occupavano, meno spazio, come è stato preso, John, Robert Priest, che è stata l'ultima vittima, era un ragazzo, che lavorava, in una farmacia, del luogo, e aveva detto, quella sera, quel pomeriggio, che aveva conosciuto, John, il proprietario, appunto, di questa famosa azienda, edile, la BDM, che gli aveva accennato, che gli voleva aprire un lavoro, che l'avrebbe pagato meglio, dalla farmacia, appunto, nella sua azienda, e quella sera, si sarebbe, appunto, trovato con lui, quando il ragazzo scompare, i genitori, e la ragazza, segnalano, che lui, appunto, aveva appuntamento, con John, e inoltre, ci sono anche, delle testimonianze, di John, che è stato, appunto, visto entrare, in quella farmacia, quel giorno, per prendere Robert, la polizia, questa volta, indaga, ottiene, un mandato, di perquisizione, a casa sua, e appena, entrano, in casa, sentono, l'odore, inconfondibile, di, corpi, in, putrefazione, e lì, cominciano a capire, cosa è successo, anche se, secondo me, non si aspettano, tutto ciò, che, troveranno, la cosa che, mi è sorbrioso, che mi sono chiesta, è, nessuno, mi è entrato, in quella casa, cioè, nel senso, infatti, anche, la moglie, l'ex moglie, Carol, diceva, e si lamentava, con John, che c'era una puzza, in quella casa, che sicuramente, c'era qualcosa di morto, sotto quella casa, perché faceva, un odore stranissimo, ed effettivamente, aveva ragione, e però, mi chiedo, cavolo, cioè, quella puzza, una puzza, non lo so, per fortuna, non l'ho mai sentita, però, boh, che nessuno, abbia mai sospettato, questa cosa, quando c'è, mi immagino, 30, cadaveri, seppelliti, sotto casa, facciano, un odore, molto, molto, forte, lui, inizia, prova, a, giustificarlo, dicendo, che ha un problema, di fognature, ma, ovviamente, la polizia, non se la beve, lo interroga, lo porta in centrale, e poi, lo arresterà, nel documentario, si vedono anche, le scene, di, i polizioni, raccontano, che, è stato, molto, provante, andare a, scovare, tutti quei corpi, perché, tra l'altro, il pezzo di casa, cioè, sotto la casa, quel pezzo, in cui erano, stati, seppelliti, tutti i corpi, era basso, quindi dovevano, e qui la mia, che era soffro, a mia amistà, cioè, sta andando all'impazzata, dovevano, strisciarsi, sui gomiti, e anche scavare, con le mani, anche perché, appunto, certi corpi, erano, dovevano prendere, vari pezzi, divisi, perché erano stati tagliati, e John, disegnere anche, una mappa, di tutti, proprio, lui si ricordava, dove aveva, seppellito tutti, alcuni erano anche, uno sopra l'altro, e, alcuni in giardino, alcuni in cantina, e, ovviamente, questa vicenda, sconvolge, a dir poco, la città, voi immaginate, quest'uomo, rispettatissimo, super attivo, nella comunità, entrerlazato dappertutto, attivo, nella politica, che, 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 che si travesse da clown, e gioca, con i vostri bambini, scoprire, che è un pazzo, assino, stupore, di ragazzini, di adolescenti, cioè, non, è assurdo, cioè, voi, provate a immaginare, una cosa del genere, c'è tanto scalpore, ma, ovviamente, non ha, non ha, non ha assolutamente speranza, di vincere questo caso, perché le prove, cioè, erano, letteralmente, seppellite sotto la sua casa, che è proprio, tra l'altro, quella casa che aveva, appunto, comprato, con la madre, eccetera, John, al processo, ci prova, a, a giocarsi, la carta, dell'infermita mentale, come molti, dice che, lui, in realtà, aveva quattro personalità, tra cui, una appunto, era lui, John, una era il clown, una era l'assassina, l'altra, onestamente, non mi ricordo, però, insomma, so che il fatto di avere questo, questo disturbo, di personalità, e quindi, di giocarsela con l'infermita mentale, in realtà, per fortuna, si accorgono che, è assolutamente una bugia, nello stato del Leninoise, non so se ancora, ma all'epoca, c'era, la pena di morte, e quindi, viene condannato, non sull'Anergastro, ma appunto, non all'Anergastro, ma alla pena di morte, viene ucciso, il 10 maggio, 1994, tramite inizio letale, l'ultima sua frase, tra l'altro, è stata, baciatemi il culo, mi fa molta rabbia, questa frase, onestamente, non penso, si sia mai pentito, di ciò, che ha fatto, a un certo punto, secondo me, ti distacchi un pochino, anche da ciò che fai, non ti rendi conto, forse, non riesce a fermarti, non lo so, onestamente, non me lo so spiegare, però, questo caso, finisce qui, un po' con la mare in bocca, nel senso, che lui, non penso, appunto, si sia mai pentito, di questi crimini, oggi, sono veramente, tanti ragazzini, proprio giovani, che anche, fidati, di lui, che sono stati manipolati, è un caso, veramente, molto particolare, ma, vi ho detto, per me, i casi serial killer, sono, molto, anche, interessanti, vorrei sapere, cosa ne pensate riguardo, soprattutto, quanto la sua storia, quanto le varie vicende, della sua storia, abbiano potuto, scatenare, questo mostro, perché, io sono sicura, o sono in parte, sicura, che, se non, se avesse, avuto un'infanzia, completamente, tranquilla, o comunque, un'infanzia regolare, probabilmente, non sarebbe, diventato, così, se avesse, potuto, accettare, il fatto, che era omosessuale, se non fosse stato, un problema, per la sua famiglia, non lo so, ditemi, cosa ne, pensate voi, e io vi ringrazio, di essere stati qui, con me, fino ad ora, io vi darei la buona notte, ma non so, quanto dormirete bene, stanotte, onestamente, però, ci teniamo a fare questo caso, ci teniamo a fare questo, speciale, anche di Halloween, quindi, vi auguro, un buon Halloween, e noi, ci vediamo, al prossimo video, ciao, che li spera, grazie, Grazie.